Buonasera e bentornati all'edizione serale di JNews. Andiamo a vedere insieme le notizie del giorno. Stava lavorando alla sostituzione di una grondaia nella zona artigianale di Casalbordino quando ha perso l'equilibrio cadendo a terra. A rimanere ferito un operaio di Pollutri in provincia di Chieti trasportato in elicottero all'ospedale civile di Pescara. Il velivolo è atterrato nei pressi del casello autostradale Vasto Nord dove l'uomo è stato portato in ambulanza. Ora è ricoverato in prognosi riservata. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Ortona. Si sono svolti stamani presso l'aula GIP del Tribunale dell'Aquila gli interrogatori di garanzia delle tre educatrici dell'asilo nido CIP e CHOP nel quartiere di Pettino, sospese dalla professione in relazione a presunti maltrattamenti avvenuti nella struttura nei riguardi di 11 bambini fino ai tre anni di età. Le tre maestre, secondo quanto riferito dal loro legale, l'avvocato Ferdinando Paone, hanno risposto punto per punto alle domande del GIP negando che i loro comportamenti fossero frutto di maltrattamenti nei confronti dei bimbi. I fatti contestati sarebbero stati commessi dal 21 luglio al 5 settembre. Donna di quasi 70 anni si ritrova dietro le sbarre. È stata arrestata dai carabinieri. I militari di Sant'Elpidio a Mare hanno rintracciato e tratto in arresto WP, 69 anni, domiciliata a Sant'Elpidio a Mare. Nei suoi confronti un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona. Contro di lei una condanna a quasi un anno e mezzo di carcere per reati in concorso continuato legati allo sfruttamento della prostituzione commessi in provincia di Macerata. Arrestato dalla squadra mobile di Pescara un 42enne di Chieti che molestava la collega di lavoro telefonandole ripetutamente e camuffando la voce per non farsi riconoscere. Sentiamo. Molestava e minacciava una collega di lavoro con telefonate anonime e per non essere riconosciuto alterava la voce servendosi di un software installato sul cellulare. Lo ha bloccato il personale della squadra mobile di Pescara e lo ha arrestato. Lo stalker è un 42enne originario di Chieti che ieri sera è stato fermato mentre telefonava la donna e la minacciava. La vittima è una trentenne di Pescara impiegata in una concessionaria di auto che il 18 novembre scorso ha denunciato alla polizia agli atti persecutori di cui era vittima segnalando che dal mese di luglio veniva contattata da uno sconosciuto che alterando la propria voce, verosimilmente tramite un apparato elettronico la molestava e la minacciava a qualsiasi ora di giorno e di notte. La vittima inoltre ha spiegato di avere trovato nei pressi della sua abitazione numerosissimi fogli affissi in strada contenenti pesanti ingiurie e frasi minatorie nei suoi confronti e ha subito il taglio delle quattro gomme dell'auto. Una mirata e repentina attività di indagine della squadra mobile dicono gli stessi investigatori ha consentito di arrestare lo stalker in fragranza di reato di atti persecutori. Da Senigallia ora una notizia, le indagini proseguono e non sono esclusi ulteriori sviluppi dopo l'inseguimento di ieri da parte di polizia e carabinieri di due albanesi che avevano rubato un furgone a Castellaro di Montignano di Senigallia uno dei quali è rimasto ferito da una gamba da un colpo di pistola sparato da un agente in borghese durante una colluttazione. L'uomo è piantonato all'ospedale di Torrette di Ancona le sue condizioni non sono gravi anche il poliziotto si è fatto medicare ha ricevuto un pugno in faccia che lo ha fatto cadere a terra rialzandosi avrebbe toccato il grilletto della pistola di ordinanza e il colpo sarebbe quindi partito accidentalmente. A San Benedetto la Capitaneria ha sequestrato oltre 650 kg di pesce ed elevato sanzioni per 30.000 euro i controlli hanno interessato anche la costa di Cupra Marittima e Porto San Giorgio nello specifico sono stati elevati due verbali amministrativi per quasi 20.000 euro le violazioni riguardano la tracciabilità dei prodotti della pesca a San Benedetto controlli invece sui vongolari e merluzzi in stato di abbandono in seguito a questa attività sono stati sequestrati quasi 400 kg di vongole e 50 kg di prodotto ittico sotto misura principalmente merluzzo e sono state elevate sanzioni per un ammontare pari a 10.000 euro sfugge al maniaco che la palpeggia e la bacia a forza e lo fa arrestare è successo a Marotta qualche sera fa si è presentata alla stazione dei Carabinieri una ragazza giovane spaventata ma determinatissima a denunciare quanto accaduto le ha raccontato di essere scesa dal treno alla stazione ferroviaria di Marotta nel sottopasso sarebbe stata avvicinata e abbordata da un uomo di colore lei sarebbe scappata lui l'avrebbe raggiunta nel parcheggio dove aveva lasciato la bicicletta l'uomo gli tappa la bocca la ferra tirandola a sé e comincia a baciarla sul collo a quel punto la donna sebbene impietrita dalla paura trova la forza di reagire e con coraggio spinge l'uomo lontano da sé ed inizia a scappare senza guardarsi indietro trascorre qualche giorno e la donna mentre era sul treno riconosce l'uomo di colore che l'aveva aggredita prende il numero di telefono e chiama i Carabinieri all'altezza della stazione ferroviaria di Marotta convergono più pattuglie i militari salgono sul treno individuano il sospetto lo prelevano e lo conducono in caserma la donna riconosce con certezza assoluta l'uomo prelevato dai Carabinieri quale autore della violenza subita nei giorni precedenti un 55enne marocchino di fatto senza fissa dimora viene sottoposto a fermo di indiziato di delitto per violenza sessuale e condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria vetri rotti alle auto in sosta in pieno centro cittadino a Nereto gli atti vandalici hanno interessato alcune vetture destinatari del lancio di mattoni da parte di Balordi senza apparenti motivi il caso viene segnalato da Daniele Laurenzi capogruppo della lista La Fonte Uniti per Nereto che auspica che le telecamere di Piazza Cavour abbiano immortalato le immagini di chi si è macchiato del gesto e che l'amministrazione comunale le fornisca per far luce sulla vicenda le vetture danneggiate ne sarebbero alcune la passata amministrazione ha approvato il regolamento che disciplina la videosorveglianza nel comune di Nereto e installato le prime telecamere spiega Laurenzi occorre immediatamente incrementare il numero delle telecamere nelle zone del paese che necessitano di un maggior monitoraggio mi chiedo che fine abbiano fatto le risorse i fondi FAS regionali che avevamo intercettato tramite l'Unione dei Comuni Val Vibrata per l'acquisto e la messa in funzione di ulteriori telecamere con lo scopo di allestire un sistema di videosorveglianza più completo questo è sempre secondo le parole di Laurenzi non c'è ancora convergenza all'interno del Partito Democratico regionale per la candidatura alla presidenza di giunta in vista delle elezioni di primavera le due anime del PD marchigiano sono ancora in lotta sulla questione se indire o meno le primarie ma ascoltiamo Valerio Lucciarini sindaco di Uffida e membro della segreteria regionale PD il PD doveva lavorare su una proposta unitaria lo si è fatto ma senza risultati nel senso che le due anime del PD e delle Marche non hanno provveduto a determinare una scelta unitaria su un candidato senza entrare nel merito io credo che nella tranquillità, nella sicurezza ma anche nella governance di un momento importante per la scelta del candidato presidente del Partito Democratico credo che siano assolutamente le primarie uno strumento attendibile che mette in condizione la popolazione di partecipare 18 di gennaio, 21 dicembre sono date che vengono diciamo che si sentono io credo che la segreteria regionale di cui faccio parte e quindi proporrò alla segreteria tutta di provvedere quanto prima a fissare la data delle primarie potrebbe anche darsi che fissando la data delle primarie si dia un supporto invece ulteriore uno stimolo ulteriore a creare le condizioni per una candidatura unitaria che a mio avviso deve essere una candidatura DOC del Partito Democratico una candidatura che possa davvero determinare il cambiamento rispetto alle testimonianze di rappresentanza che la regione dovrà provvedere a programmare per i prossimi cinque anni le primarie non sono la panacea dei tutti mali le primarie sono appunto il momento in cui è possibile decidere senza per forza dividere un'organizzazione politica un proprio candidato credo che sia la strada maestra giusta, migliore per ragionare a una prospettiva virtuosa PD preferisce un candidato già navigato o magari nuovo della politica? Noi preferiamo gente seria affidabile che abbia un minimo di esperienza ma che abbia allo stesso tempo un tratto sintomatico di freschezza e quindi i nomi che sono usciti noi saremo d'accordo su tutti da Paolo Petrini a Camilla Fabri mi pare però che non ci sia tutta questa convergenza dall'altra parte del partito quindi si provvederà quindi a guardare alle primarie come l'unica soluzione possibile Duro comunicato stampa del capogruppo del PD in consiglio comunale contro l'ex compagna di partito Loredana Emili da tempo fuoriuscita dal partito che nei giorni scorsi ha partecipato ad una conferenza stampa insieme agli esponenti del centro-destra ho sentito la necessità di intervenire dopo l'ennesima uscita pubblica del consigliere Emili che per rimarcare il suo assio contro Gaspari e la sua amministrazione ha pensato di fare una conferenza stampa congiunta col popolo della libertà con sugello di foto certificatrice continua l'esponente PD è stata proprio una vergogna vedere quella foto arrogante e sfacciata con lei rappresentante storica della sinistra dalemiana ieri e cuperdiana oggi posizionata al centro tra i suoi nuovi compagni berlusconiani ed ex di alleanza nazionale non era sufficiente fare una conferenza stampa da sola per manifestare il proprio dissenso umiliando tutti gli elettori del PD che hanno creduto in lei a Teramo ha convocato il consiglio provinciale per giovedì 27 novembre alle ore 15 fra gli argomenti all'ordine del giorno l'atto di indirizzo per la nomina e la designazione dei rappresentanti della provincia presso enti aziende e istituzioni il piano di dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa una variazione di bilancio con la quale fra le altre cose si registrano in entrata 800 mila euro dalla regione Abruzzo per la manutenzione ordinaria delle strade e 425 mila euro dal ministero dell'istruzione destinati all'istituto agrario di Teramo torniamo a parlare di sanità picena e di ospedale unico di Vallata con questa intervista al direttore dell'area vasta 5 Massimo Del Moro sui tempi di realizzazione dello stesso ospedale Marche Sud direttore qual è il futuro della sanità picena e come sta procedendo l'ite per la costituzione di un ospedale unico il futuro della sanità picena penso sia e sarà un futuro estremamente importante nel senso che la regione Marche ha concluso il percorso di riorganizzazione avendo predisposto nelle scorse settimane la seconda delibera con la quale in sostanza ridefinisce la propria presenza nel territorio in riferimento all'ospedale unico dico che semplicemente che vi è necessità di questa struttura perché serve per dare una sanità migliore agli utenti diciamo e con costi ridotti che non è una questione secondaria per le casse della sanità della regione e quindi questo progetto che è stato indicato dalla regione Marche attraverso l'incarico che ha dato la giunta regionale la settimana scorsa va in questa direzione cioè avere il progetto di un nuovo ospedale per realizzarlo nel territorio con tempi il più possibilmente stretti a proposito di territorio San Benedetto e Ascoli continuano a litigare sul posto dove dovrebbe essere costruito questo ospedale cosa dice al riguardo io direi per carità i campanili sono sempre duri a morire però io penso quando c'è un interesse preeminente come quello di dare avvio alla costruzione di un nuovo ospedale penso insomma che i campanili possono essere messi dentro al cassetto diciamo come questioni quotidiane del resto siamo tutti quanti cittadini europei non penso che sia più adeguato contestualizzare rivendicazione di campanile sit-in di medici e infermieri davanti al carcere di Sulmona contestano la normativa regionale che regola le assunzioni nelle carceri ebruzzesi e prevede il ricorso a graduatoria ASL con conseguente licenziamento degli attuali addetti a scadenza contratto non è giusto dice il dirigente medico del carcere Fabio Federico nemmeno nei confronti dei detenuti medici con esperienza trentennale qui non possono essere sostituiti da medici preparati ma senza la dovuta esperienza a Pescara settina di protesta davanti alla sede della regione Abruzzo e sciopero dei 65 addetti della CSG Facility azienda di Iesi che da ottobre ha l'appalto per la pulizia dei circa 70 uffici dell'ente e ha deciso di portare gli orari settimanali di lavoro da 15 a 7 ore con conseguente riduzione dei salari la regione riapra un tavolo con l'azienda dice il segretario regionale Filcams CGL Luca Ondifero parliamo di salari già bassi visto il numero ridotto di ore di lavoro il viale della stazione a Porto San Giorgio e via Oberdan potevano essere terreno di scontro sabato scorso per due manifestazioni contrapposte ma le forze dell'ordine sono riuscite a mantenere la calma e la civiltà di coloro che erano contro Mare Nostrum e quelli che manifestavano contro il razzismo ha prevalso sulla violenza sentiamo tutti i dettagli un pomeriggio difficile sabato scorso a Porto San Giorgio dove si è temuto il peggio due manifestazioni contrastanti tra loro il centro della città è finito sotto assedio da una parte casa Pound a manifestare contro Mare Nostrum al grido di prima gli italiani dall'altra all'estrema sinistra con il servizio dei rifugiati a dire invece no al razzismo un momento difficile in cui le forze dell'ordine carabiniere e la polizia in assetto antisommossa hanno temuto di dover assedare delle risse che però non ci sono state e nonostante queste due autorizzazioni contrastanti tutto è andato per il meglio ma sentiamo come ce lo racconta il primo cittadino il sindaco di Porto San Giorgio Nicola Loira innanzitutto non è successo niente è il dato più confortante c'è stata una richiesta per un sit-in da parte di casa Pound sul tema della della immigrazione sul tema dei rifugiati eccetera in un primo momento io ero per non dare autorizzazione di occupazione solo pubblico perché Porto San Giorgio è una città ad alta vocazione democratica e d'accoglienza ospita il servizio Sprara da oltre dieci anni per i rifugiati politici tuttavia la stessa prefettura ha detto che non era possibile negare spazi di discussione di libertà eccetera stessa cosa lo penso io perché è fascista chi nega questi spazi per cui abbiamo dato l'autorizzazione contemporaneamente le forze della sinistra più radicale insieme a Lampi avevano fatto richiesta per una manifestazione dai contenuti opposti entrambe sono state autorizzate ma diciamo c'è stata una prova di responsabilità da parte dell'uno e dell'altro gruppo sono limitati a manifestare le loro idee senza provocare senza alzare il livello della manifestazione e arrivare allo scontro per cui siamo soddisfatti parcheggi di mezzati nel periodo natalizio nella città delle centotorri tornano anche quest'anno le tariffe ridotte per le soste blu nel centro di Ascoli vediamo parcheggi meno costosi nel periodo natalizio anche quest'anno l'amministrazione comunale di Ascoli Piceno in accordo con la Saba ha deciso di dimezzare le tariffe per la sosta durante le festività l'iniziativa prenderà il via lunedì 15 dicembre e si concluderà il 6 gennaio 2015 il giorno dell'epifania un'agevolazione che recherà dei benefici economici a tutti coloro che si dovranno recare nel centro storico dal 15 infatti scatteranno le nuove tariffe per quasi tutti i parcheggi cittadini proprio come prevede la convenzione stipulata dalla Ringo con la Saba tempo fa un provvedimento che include anche porta Torricella struttura centralissima ma che non riguarda invece i parcheggi a lunga sosta come l'ex Gil dove c'è già una tariffa giornaliera già notevolmente ridotta per l'intero arco della giornata e dove quindi non è possibile applicare ulteriori sconti un modo insomma per incentivare l'afflusso di persone nel centro della città e che inciderà sulle tasche dei cittadini le tariffe infatti anche nei giorni prefestivi e il sabato quando le tariffe sono già la metà rispetto agli altri giorni saranno ulteriormente decurtate di 50 centesimi buone notizie insomma per i cittadini e i turisti che potranno suffruire di agevolazioni anche in concomitanza dei tradizionali eventi natalizi che si svolgeranno in città notizie positive sul fronte tariffe la cherella invece che riguarda il rapporto Saba-Ringo rimane ancora incerto da quando il comune annunciò tempo fa che avrebbe ricomprato i parcheggi il futuro rimane incerto ma per ora il predominio continua a rimanere alla Saba i comuni del BIM Tronto negli ultimi mesi hanno recuperato oltre 800 mila euro di fondi tramite l'ICI non versata dall'Enel un percorso intrapreso nel 2010 dallo stesso ente del BIM Tronto ce ne parla il presidente Luigi Contrisciani grazie al BIM Tronto molti comuni hanno recuperato dei fondi si è un percorso che parte nel 2010 con una richiesta all'Enel Produzione e quando riguardava l'ICI allora oggi IMO noi eravamo convinti che in pratica i nostri comuni che dove erano ubicate le centrali l'Enel non versasse l'ICI dovuta quindi abbiamo intrapreso questo percorso che ha portato oggi nelle nostre casse nelle casse del BIM ma però nei casse dei comuni 3 milioni di euro rispettivamente 1 milione e 2 per il comune di Ascoli Piceno 700 mila euro circa per Acqua Santa Terme 220 mila euro per il comune di Force 112 mila euro che è l'unico ancora in via di definizione per Arquazzo del Trondo 34 mila euro per il comune di Roccafuvione e a giorni arriverà nelle casse del Comune di Comunanza 406 mila e rotti euro quindi una grossa vittoria da parte del nostro ente in quanto non solo diamo un servizio quindi sussistenza e solidarietà al nostro territorio ma comunque portiamo avanti iniziative sindacali che poi portano a questi grandi risultati nella parte magari a livello centrale ci sono dettagli invece localmente non si disinveste ma sicuramente no perché noi le nostre entrate sono sempre le stesse anzi ogni anno cerchiamo di dirottare al territorio sempre più fondi basta dire che nell'anno 2013 quest'anno ancora non siamo in grado di dirlo ma abbiamo ricevuto 100 abbiamo dato al territorio 102 e 13 quindi quanto più di quando abbiamo ricevuto facendo degli investimenti che poi sono sempre a beneficio dei nostri territori poco meno di 90 mila euro da destinare al sostegno delle famiglie in difficoltà nel pagamento delle utenze del gas la somma è quella che mette a disposizione come da normativa l'amministrazione comunale di Martinsicuro alla luce della rimodulazione del canone di concessione che la società che gestisce la rete di distribuzione e fornitura del metano nella cittadina troentina l'avviso per poter accedere ai benefici economici la ripartizione dei fondi a disposizione per l'aiuto economico a pagare le utenze è già disponibile sul sito dell'ente e le domande vanno presentate negli uffici comunali entro il prossimo 19 novembre attraverso il nostro impegno sottolinea il sindaco Paolo Camaioni con la società del gas lo scorso mese di giugno abbiamo ottenuto la possibilità di beneficiare di un incremento del canone di concessione pari a quasi 90 mila euro che ovviamente sarà destinato a dare un sostegno alle famiglie in difficoltà nel pagamento di questo tipo di fornitura incremento del canone che decorre dalla seconda metà del 2012 a Tortoreto una nuova assemblea pubblica sul progetto del nuovo depuratore intercomunale a promuoverla il Movimento 5 Stelle di Tortoreto con un'iniziativa prevista per domani martedì 25 novembre nella circostanza così come accaduto nella prima assemblea a Salino gli attivisti del Movimento 5 Stelle torneranno a focalizzare le attenzioni sul progetto del Ruzzo che evidenzia non poche perplessità dicono i pentastellati viste le motivazioni con le quali è stata giustificata l'opera e la sua incompletezza intervento che impegnerà 5 milioni di soldi pubblici ossia soldi nostri si è insediato questa mattina all'Aquila il comitato istituzionale dell'autorità di Bacino il comitato presieduto dal governatore Luciano D'Alfonso ha tra i suoi compiti quello di pianificare azioni utili per la tutela e conservazione del suolo ascoltiamo l'intervista all'assessore Mario Mazzocca abbiamo rinnovato come norma impone questo importante comitato il comitato istituzionale che sostanzialmente valida amministrativamente le decisioni che sul piano tecnico l'autorità di Bacino assume l'autorità di Bacino dell'Abruzzo interregionale del fiume Sangolo questa è la decitura precisa è una delle quattro a cui l'Abruzzo soggiace sostanzialmente ed è quella più importante è la prima riunione del comitato istituzionale in questa prima riunione a seguito di un lavoro che è stato fatto sia dal punto di vista tecnico che amministrativo in collaborazione con diversi comuni sono state approvate nelle proposte di modifiche avanzate dai comuni stessi e connotate dalla adeguata documentazione di natura geologica e geotecnica affinché questi perimetri possano essere rivisti a livello puntuale sia per quanto attiene alla esclusione di piccole parti di territorio ossia come è avvenuto anche per alcuni comuni per la loro inclusione i comuni nel loro complesso sono almeno per quanto attiene le proposte deliberate oggi stesso in sede di insediamento del comitato istituzionale sono dislocati un po' in tutte le province per esempio abbiamo Castilenti Isola di Gran Sasso e Bisenti nel Terramano l'uomo di comuni più numeroso è quello della provincia di Chiedi con Chiedi Capoluogo Tess Castelfrentano Rocca San Giovanni Fossa Cesia Eri Patiatina mentre nell'Aquilano abbiamo Sulmona Prezzo e Pettorano Surgizio e nel Pescarese Picciano Pietranico Pianella Eletto Valopello Una task force per accedere ai fondi europei il punto in un convegno in Camera di Commercio di Fermo in cui l'organismo camerale con la provincia di Fermo si è attivato con un gruppo di lavoro fermano capeggiato dall'economista Marco Marcattili per l'attuazione di strategie comuni nella presentazione di progetti europei andiamo a vedere il servizio Dalle strategie ai progetti per il territorio questo il titolo e il sottotitolo dell'incontro di lunedì 24 novembre presso la Camera di Commercio di Fermo a Palazzo Azzolino insieme in particolare oltre la Camera di Commercio la provincia di Fermo con il presidente Fabrizio Cesetti a sottolineare come un gruppo di lavoro del Fermano aree progettuali e ipotesi di lavoro stia portando avanti quei progetti europei che possano addire ai fondi che tanto servono a questo territorio un territorio che deve presentarsi unito e compatto per poter avere delle chance in Europa credo che sia un elemento fondamentale i fondi europei hanno una dimensione appunto europea e extraeuropea se noi non riusciamo a proporci almeno come territorio integrato all'interno del sistema programmatico della regione Marche rischiamo di presentare progetti o che non sono ammissibili o che hanno poche possibilità di essere finanziati allora insieme alla provincia di Fermo abbiamo predisposto uno studio di base che è fondamentale dell'intero territorio su cui puoi costruire le varie progettazioni gli orientamenti fondamentali che noi vediamo è la ricerca a favore del mondo imprenditoriale dell'economia insieme a questa intendiamo anche quello che è la nuova tecnologia quindi le strade informatiche potenziate quindi anche una ricerca su tutte quelle tecnologie web internet e tutto ciò che è indispensabile naturalmente però è fondamentale anche mettere insieme fare in modo che tutti i comuni trovino un'interazione affinché si faccia una unica progettazione nel rispetto delle necessità delle peculiarità delle varie realtà territoriali le aree progettuali sono state tante quelle specificate si parla anche di risorse nei rifiuti nel sociale e nell'e-commerce quindi delle aree inesplorate per quanto riguarda il fermano con due distinte delibere votate all'unanimità il consiglio comunale di Roccapia ha conferito la cittadinanza onoraria al presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso e al commissario ad acta per le attività ex agensud Roberto Iodice la breve cerimonia presieduta dal sindaco Mauro Leone si è tenuta ieri pomeriggio nella sala consigliare del piccolo comune a cavallo tra la valle Peligna e l'Alto Sangro dove si è riunita la piccola comunità di Roccapia per dare il benvenuto ai due nuovi cittadini la cittadinanza onoraria che mi ha voluto conferire il consiglio comunale ha detto il presidente D'Alfonso rappresenta per me un vincolo in ragione di una capacità di interessamento rispetto alle esigenze che avrà questa comunità l'Abruzzo è la prima regione in Italia a recepire le procedure operative per la tutela dei minorenni vittime di abuso sessuale online la città di Pescara insieme a Catania Torino e Roma ha fatto parte del ristretto gruppo di lavoro che sotto l'egita di Save the Children ha contribuito efficacemente all'elaborazione delle procedure operative denominate fuori dalla rete e presentate questa mattina nella sala dei marmi della provincia di Pescara vediamo c'erano le linee guida già nel 2007 ma non sono mai state attuate è necessario riprendere e riattualizzarle le linee guida che abbiamo invece approvato tra l'altro siamo state la prima regione ad approvarle e tengono conto della nuova tecnologia gli abusi sui minori purtroppo sono un fenomeno sempre esistito ma oggi cambiano completamente aspetto perché c'è l'introduzione c'è questa novità di internet e delle nuove tecnologie tutti gli attori della rete devono sapere di che cosa stiamo parlando devono avere una conoscenza di questo fenomeno e devono saper rispondere ma la cosa più importante è che ognuno di noi si senta in qualche modo garante dell'infanzia perché purtroppo i bambini quando arrivano ad un assistente sociale ad un avvocato ad uno psicologo piuttosto che al tribunale dei minori è troppo tardi è necessario quindi che ognuno di noi invece in qualche modo senza allarmismo diventi sia attento a quello che succede intorno a sé per poter garantire una rete di protezione e anche di prevenzione sulla discarica di bussi e sulla sospetta latitanza della regione avevo ragione io è quanto dichiara il presidente della commissione di vigilanza del consiglio regionale Mauro Febbo durante l'audizione nella commissione del 5 novembre scorso aggiunge Febbo dopo che Mazzocca aveva disertato le due precedenti convocazioni l'assessore regionale all'ambiente ha garantito che col ministero e il commissario Goyo era stato deciso di convocare un'apposita conferenza di servizi per il 20 novembre in effetti giovedì 20 c'è stata una conferenza di servizi ma con un ordine del giorno che nulla aveva a che fare con l'approvazione del programma progetto rimesso dal commissario stesso in data 14.8.2014 protocollo 593 i giovani di Confindustria Ascoli lamentano la mancanza di infrastrutture sul territorio e sollecitano un maggiore sostegno dalle istituzioni e dalla politica in generale ascoltiamo il presidente di Confindustria Giovanni Ascoli no Confindustria Giovanni Ascoli le istituzioni ci devono chiaramente essere vicine perché per le problematiche per l'apertura dell'azienda sono poi le problematiche che hanno le aziende le aziende stesse quindi la burocrazia in primis su queste iniziative che andiamo a sviluppare gli enti quindi comune per provincia ma anche regione devono esserci vicini e darci una mano nel semplificare dal punto di vista organizzativo proprio dell'evento poi c'è tutto il ruolo delle istituzioni sullo snellimento quindi la velocità nel confrontarsi appunto con le imprese il costo della burocrazia è chiaramente troppo pesante si sa non è all'ordine del giorno ed è un punto su cui chiaramente Confindustria già batte da tempo su questo aspetto anche le infrastrutture vanno migliorate? sì sicuramente come Marche tutta al versante Adriatico siamo un po' svantaggiati rispetto agli amici del Tirreno nell'organizzazione dell'evento abbiamo portato qui investitori dalla Lombardia dall'Emilia dal Tirreno arrivare nelle Marche è sempre un problema c'è un evento organizzato da Confindustria Giovani del Centro quindi Marche Umbria Lazio Abruzzo il 28 di novembre che racchiuderà arriveranno a Re Canati i giovani imprenditori da tutta Italia la parte logistica quindi le infrastrutture intese come viabilità non solo di mezzi di autostrade ma anche treni piuttosto che aerei devono essere potenziati perché altrimenti non siamo competitivi col territorio dell'altra parte dell'altra versante la linea tirrenica parliamo di treni adesso c'è anche il discorso oltre le ferrovie c'è il discorso di Italo sono molto più rapi hanno molto più collegamenti arrivare in modo particolare nella parte bassa delle Marche diventa un problema è impensabile che per arrivare a Milano col treno occorre fare dei cambi l'abbiamo visto quando abbiamo organizzato appunto Startup Weekend far arrivare questi investitori nella nostra zona è stato un drama affrittiamo un pulmino vediamo una macchina un treno mille peripezie occorre essere più collegati a Milano Roma e le città importanti della nostra nazione è stato siglato questa mattina a Teramo un accordo tra Confindustria Teramo e il Core con Mabruzzo che prevede azioni per la tutela dei diritti delle attività produttive il primo a livello nazionale di questo genere l'accordo è destinato a sostenere le imprese aderenti a Confindustria Teramo nella risoluzione dei problemi connessi ai servizi di telecomunicazione e comunicazione elettronica quindi servizi di telefonia mobile fissa operatori internet telefonia pubblica servizi di televisione a pagamento anche tramite l'attivazione di specifiche procedure di conciliazione la definizione delle controversie fra ente gestore del servizio comunicazione elettronica e utenti infatti è uno dei compiti istituzionali del corecom a cui ogni anno in Abruzzo si rivolgono oltre 3500 cittadini e 1200 imprese un'opportunità fornita dalla legge che nell'80% dei casi consente di raggiungere un accordo con la controparte senza ricorrere all'autorità giudiziaria o all'agicom inoltre la conciliazione è una procedura di risoluzione extra giudiziale gratuita i dirigenti e rappresentanti scolastici di nuovo nel paese asiatico per studiare nuove forme di collaborazione secondo viaggio in Cina delle scuole superiori col patrocinio dell'istituto Confucio dell'università di Macerata per la seconda volta dirigenti e rappresentanti di alcuni licei istituti delle Marche e questa volta anche dell'Abruzzo avranno la possibilità di incontrare le istituzioni cinesi per studiare nuove forme di collaborazione e creare vere e proprie classi Confucio in modo da godere dei finanziamenti del ministero dell'istruzione cinese l'associazione Amici di Tortoreto ha organizzato due incontri tematici sul buon uso di telefonino e pc ma anche degli effetti e dei pericoli delle onde elettromagnetiche il primo appuntamento è in programma domani alle ore 21 per parlare di uso intelligente di computer e telefonino relatori della serata saranno Leonardo Di Silvestre e Gabriele Guercioni il 2 dicembre invece si affronterà la questione degli effetti nocivi delle onde elettromagnetiche prodotte dagli stessi strumenti multimediali relatori Patrizia Iezzi e Giuseppe Galantini i due incontri si svolgeranno nei locali della pizzeria Anchise a Tortoreto Alto a Radia associazione di promozione sociale impegnata nella lotta contro le discriminazioni e la violenza culturale attraverso l'educazione alle differenze con sede a Castorano organizza per domani 25 novembre in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne un evento dal titolo la violenza sotto la pelle tantissime iniziative per Natale con i tuoi il cartellone delle tantissime manifestazioni del periodo festivo di Grotta Mare presepi luci feste in piazza e musica per tutti i gusti programma natalizio molto vasto quello di Grotta Mare un ampio programma che partirà già il 30 novembre per poi concludersi l'11 gennaio Natale con i tuoi l'abbiamo intitolato per dire ai grottammaresi rimanete a Grotta Mare a festeggiare il Natale e per dire a chi vuole venire a Grotta Mare come turista venite in questa città perché il clima è familiare e vi troverete come se foste in famiglia insieme ai figli e nonni e nipoti e gli amici della città è un calendario che parte il 30 novembre con l'accensione dell'illuminare su tutto il territorio di Grotta Mare e finisce l'11 gennaio un lungo percorso attraverso spettacoli per bambini una discesa di Babbo Natale e delle Befane il grande preservivente di Grotta Mare un capodanno con il ballo del cappello concerti in piazza laboratori mostre di tavole imbandite natalizie insomma raccontarlo è lungo perché le cose sono tantissime si può scaricare sul sito venite a vedere i manifesti nella città percorrete Grotta Mare perché a Natale quest'anno sarà più bella calendario di eventi a costo zero praticamente sì a costo zero nel senso un calendario che sarebbe costato 5 volte in più se non fosse stato realizzato con le forze delle associazioni cittadine e dei volontari cittadini tenete conto che tutte le iniziative del Paese Alto sono state animate direttamente da un'associazione di commercianti del Paese Alto come l'associazione Preservivente la Cora del Sisto Quinto l'associazione Muse tutte le persone coinvolte sono associazioni grottamaresi che hanno proposto i loro eventi ad un prezzo assolutamente lontanissimo rispetto a quello del mercato altrimenti un calendario del genere non sarebbe stato possibile organizzarlo con la miseria di questi mesi tra tutti gli eventi qual è quello sul quale puntati di più? ma diciamo puntiamo su tutti naturalmente quello che nel passato è stato più riconosciuto e lo sarà anche quest'anno è sicuramente il Preservivente di Grotta Mare circa 10.000 persone in tre giorni ed è un'esperienza per chi ancora non lo ha conoscere assolutamente da percorrere tra i più chiorosi di quest'anno c'è il Capodanno con il ballo del cappello al Paese Alto in Piazza Peretti un Capodanno nuovo senza spari per non spaventare i bambini e gli animali ma soprattutto con un oggetto che ha un cappello che potrà essere acquistato anche al Paese Alto si potrà fare moda divertimento un po' di bollicine per brindare insomma un Capodanno diverso è ora il momento del meteo e a seguire lo sport buonasera e ben ritornati a questo nuovo appuntamento con le previsioni meteo dell'Istituto Aeronautico Antonio Locatelli diamo uno sguardo alla grafica piace mostrare la situazione generale per quanto riguarda la penisia italiana come possiamo dare sarà una giornata variabile a tratti nuvoloso su gran parte del nostro territorio ricordiamo che specialmente in Emilia Romagna al mattino saranno presenti forti banchi di nebbia per quanto riguarda invece Veneto e Umbria avremo sempre nebbia ma meno fitta scendiamo in dettaglio e vediamo le previsioni su Marche e Abruzzo come possiamo notare siamo conformi con la macro regione del centro Italia sulle Marche avremo una giornata variabile o a tratti nuvolosa con dei panchi di nebbia per quanto riguarda l'Anconese sull'Abruzzo giornata lievemente maggiore infatti avremo la presenza di sole per quanto riguarda le fasce dell'entroterra mentre sulle coste avremo qualche annuvolamento in più per quanto riguarda invece le temperature massime a noi previste avremo valori che oscilleranno tra 13 e 16 gradi vi ringraziamo per l'attenzione da Matteo Locatelli è tutto al prossimo appuntamento La quattordicesima di andata in Lega Pro è stata favorevole alla capolista Ascoli che oltre ad aver vinto agevolmente per 3 a 0 la gara di Piacenza ha preso atto della sconfitta concomitante del Pisa in casa contro la Carrarese portando a più 6 il vantaggio sui nerazzurri la nuova seconda forza del campionato diventa l'Aquila che dopo la quarta vittoria di seguito e domenica prossima giocherà nuovamente in casa sale al secondo posto a meno 5 dai bianconeri da sottolineare il buon pari del Teramo a Pontedera contro il Tutto Cuoio 0 a 0 e la brutta sconfitta a Casalinga dell'Ancona contro il Gubbio è finita 2 a 4 fa notizia la sconfitta interna della Samb contro il Campobasso in una gara che si riproponeva a 27 anni di distanza la maceratese sotto di due reti riacciuffa il Matelica in casa ma perde due punti dalla nuova damigella d'onore civitanovese vittoriosa a Termoli apriamo una pagina per il basket di Serie C non è bastato al Campi il cambio dell'allenatore nella difficile trasferta di Ortona per dare concreti segnali di risveglio probabilmente c'è ancora tanto da lavorare in testa ora comandano due squadre Ortona e Osimo Val di Ceppo e Pedaso devono recuperare una gara che si disputerà il prossimo 4 dicembre e sulla gara Ortona Campli vediamo il servizio se dal cambio di allenatore per la Globo Campli doveva arrivare un segnale ebbene questo in pochi lo hanno percepito la sconfitta netta sul campo dell'Ortona formazione di livello superiore era nell'ordine delle cose quello che al contrario merita attenzione è l'atteggiamento e forse i limiti che i biancorossi palesano soprattutto sul piano mentale la cura a Millina che in settimana ha preso il posto di Castorina in pochi giorni non poteva fare miracoli ma il rival adriatico Campli ha giocato come deve solo per un quarto il primo chiuso sotto di 5 punti ostanza lucidità in attacco e gestione del match in questo frangente rappresentano obiettivi ancora da perfezionale per i farnesi che iniziano con il piede giusto sorretti dall'ottimo impatto di Bergamin ma si smarriscono alle prime avversità non era forse l'Ortona l'avversario ideale per iniziare il nuovo corso ma è altrettanto vero che dopo un secondo quarto decisamente complicato solo 11 punti in attacco per la Globo ai biancorossi manca lo spunto per cercare di garantire un pizzico di pathos ad una contesa che al contrario dal decimo minuto in poi è già scritta troppo forte l'Ortona dal punto di vista tecnico è troppo morbido il Campli almeno in questa fase per cercare di creare qualche intoppo nei meccanismi rodati della formazione di Sorgentone il meno 25 della sirena conclusiva forse appare una lezione troppo severa per i biancorossi ma immortala l'immagine di una squadra che tale ancora non è che fatica in attacco e che troppe volte cerca soluzioni forzate e che avrebbe necessità di un sostegno in termini di punti dagli esterni che al momento non c'è fare drammi eccessivi non serve bisogna ritrovare l'autostima e soprattutto focalizzare l'attenzione alla prossima trasferta Civitanova lì al contrario sarà necessario tornare a vincere e cancellare le tre sconfitte consecutive torniamo al calcio nell'eccellenza abruzzese il Francavilla è la nuova capolista solitaria visto che il Pineto è stato battuto di misura ad Avezzano scivolando dal primo al quarto posto peccato per la battuta d'arresto casalinga del Martinsicuro che ha perso la grande opportunità di inserirsi prepotentemente tra le primissime del campionato si è giocata la dodicesima giornata di andata nel campionato marchigiano di eccellenza il Falerone espugnando il campo dell'Urbania ed approfittando del concomitante pareggio casalingo del Tolentino riduce ad un solo punto il divario dalla vetta brutta la sconfitta del Portodascoli sul campo dell'ultima della classe Portorecanati dodicesima giornata nel campionato di promozione abruzzese nel girone A c'è una nuova capolista e il morro d'oro che ha scavalcato il Castellalto battuto a domicilio dalla palmense Santomero nella vera impresa sportiva della giornata passeggia a Cologna il Ponte Vomano mentre vince la seconda gara consecutiva dall'avvento di Michele De Feudis in panchina il notaresco nel girone B di promozione Marche è stato clamoroso lo stop interno della San Giustese ad opera del Settempeda di questa situazione ha ovviamente approfittato l'Elvia Recina che ha fatto valere il fattore campo contro la Lorese anche l'atletico Piceno e l'Aurora Treia rientrano a pieno titolo nella lotta per la conquista del vertice e prima di saluti vi ricordiamo il nono appuntamento stagionale con J Magazine Sport stasera alle ore 21 come sempre si parlerà di calcio dilettantistico e del campionato nazionale di basket di serie C ed è tutto vi ringraziamo per averci seguito a tutti voi buon proseguimento di serata grazie a tutti grazie a tutti